In maniera decisa, e lo fa dicendo in modo chiaro a chi autorizza le piazze ai fascisti, che Bologna non lo accetta, che Bologna è pronta a difendere le proprie piazze, le proprie strade, all'arrivo di questi schifosi elementi. Fascisti, a Bologna non siete stati, non siete e non sarete mai ben certi. Grazie! Le ultimate per ieri basta con questi margonelli! La sinistra ha le bici! Ancchio le bici! Occhio le bici a sinistra! Attenzione, vieta, la compagnie! Attenzione! La catena, la catena! Occhio le catena, la catena, occhio! Occhio, occhio, occhio! Siete delle merde! Fate cagare! Ci sono le cazzo di catene, bestie! Merda! Siete voi che legittimate i fascisti! Vi voglio abbassare il corpo! Siete delle bestie! Polonia non vuole la poluzione dei fascisti! Basta mia interlocuzione! Siete delle cazzo di bestie! Pure il vostro lavoro di merda, lo fate ancora più di merda! Bastardi! Noi siamo venuti in questa piazza e direi che c'è speranza ancora! E voi ci provate in continuazione a distruggere la speranza! Ci provate in continuazione a distruggere la speranza! Fai di una meridia per i datori te! La speranza tra le centinaia e i mili milioni di persone che stanno suonendo in piazza contro i fascisti! Oltre il ricorso di i fascisti! Il Natale ha agito! Luca Traini è stato amato! Stai i fascisti! Luca Traini è un fascista! Guarda! Ti pincere con un cazzo! Ti pincere con un foglio! E se non c'è tra i ghi! Agito in un fascista! La pistola è in mano! Nella non c'è tra i ghi! Nella non c'è tra i ghi! Roberto Siole! Casa Paolo! Davide! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.